Si rinnova ad Agropoli l'appuntamento con Benvenuti al Sud, raduno turistico amatoriale per canoe kayak da mare. La terza edizione, promossa dall'associazione di kayak I Trezeni, con il patrocinio del comune di Agropoli, andrà in scena venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre. La partenza è prevista dal porto turistico agropolese. Si navigherà lungo la costa blu sulle tracce dei Trezeni, percorrendo la tratta fino a Punta Licosa e Ogliastro Marina. È una manifestazione, commenta il sindaco Franco Alfieri, che promuove lo sport, la tutela ambientale e la scoperta della nostra splendida costa. Un modo speciale per vivere, apprezzare e valorizzare il nostro mare bandiera blu. L'associazione spiegano i responsabili dei Trezeni allo scopo di diffondere la pratica della canoe e del kayak come mezzo di semplice apprendimento, attraverso il quale poter fruire dell'ambiente marino e costiero in maniera sana, diffondendo, nel contempo, la cultura della difesa e salvaguardia dell'ambiente. Il programma. Venerdì 11 alle ore 16 raduno dei partecipanti presso il porto turistico di Agropoli e alle 19 alla presenza degli amministratori locali, presentazione della manifestazione e festa trezena. Sabato 12 alle ore 8 e 30 partenza dalla spiaggetta della Marina di Agropoli, sosta a Cala Blu e ripartenza verso Castellabate. Alle ore 10 arrivo al porticciolo Legatte di Santa Maria di Castellabate e alle ore 12 ripartenza verso Punta Ricosa con arrivo alle 13 dove è prevista la pulizia dell'isolotto e una riflessione sull'importanza della caretta caretta, quale indicatore biologico di acque incontaminate. Alle 16 partenza verso Gliastro Marina. Domenica 13 alle ore 8 e 30 rientro ad Agropoli.